Bene, allora aspettiamo che entrino ancora un po' di partecipanti. Nel frattempo annunciamo quello che è la tematica di stasera. Buongiorno, buonasera, buonasera a tutti. Perfetto. Annunciamo quella che è la tematica di stasera, cioè si parlerà di welfare, come avete visto, e di gestione economica dello studio dentistico. Abbiamo chiesto a un consulente di lavoro di partner di impresa di parlarci un po' meglio di quello che implica effettivamente un sistema di welfare per lo studio dentistico, quindi ci parlerà un po' più approfonditamente della parte fiscale. E poi interverrà un nostro consulente senior, Massimiliano Schettini, che assiste tutti gli studi dentistici, in particolare, devo dire, ha una particolare abilità sulla gestione finanziaria e quindi stasera parlerà a lui di questo argomento. Un breve annuncio, poi lascio la parola ai relatori. Questo giovedì ci sarà un evento in presenza dedicato all'organizzazione degli studi dentistici, quindi un argomento che interessa a tutti, perché l'organizzazione sappiamo che è la base della produttività dello studio, quindi senza organizzazione le cose non funzionano. Ed è per questo che abbiamo scelto questo argomento per l'evento in presenza che ci sarà questo giovedì in provincia di Padova. Ci sarà un nostro consulente che si chiama Nicolò Levorato, che vi contatterà, che sei qua. Eccolo. Ciao Nicolò. Ciao a tutti. Ciao. Ecco, questo è Nicolò, vi contatterà, contatterà quantomeno chi è interessato. Abbiamo messo un link qui nella chat per chi volesse approfondire, volesse vedere, volesse avere qualche informazione in merito all'evento. Ovviamente se vi trovate a Padova, avete voglia di venire e unirvi a noi anche per l'aperitivo, saremo felicissimi di conoscervi, anche perché facciamo questi webinar ma non ci vediamo mai in presenza e quindi è un'occasione anche per conoscerci. Ok, perfetto. Allora io lascio la parola a Micaela Varone. Buonasera Micaela, benvenuta. Grazie, buonasera a tutti. Come dicevo, Micaela è consulente del lavoro di partner e di impresa. Parlerà stasera appunto di welfare e alla fine del suo intervento lasceremo un po' di spazio alle domande. Quindi Micaela tu vai pure avanti, quando finisci chiediamo appunto se ci sono delle domande. Potete farle nella chat chi sta partecipando su Zoom e anche ovviamente chi sta partecipando al gruppo Facebook, basta che scriviate la vostra domanda nell'apposita chat sotto. Ok, perfetto. Micaela ti lascio la parola. Aspetta, vediamo se... Ah, non ti sento Micaela. Micaela non ti sentiamo, hai il microfono disattivato. Perfetto. Eccomi. Eccoti, perfetto. Vai pure. Buonasera a tutti, ora sono Micaela Varone, appunto consulente del lavoro di partner di impresa. Oggi andiamo a toccare un attimo quello che è l'argomento welfare per quanto riguarda eh in particolar modo quindi lo studio dentistico e quindi il welfare introdotto in quella che è la gestione del personale in uno studio dentistico. Eh io diciamo ho preparato qualche breve slide molto molto semplice proprio per far capire in primis che cos'è il welfare e i benefici che comporta il welfare all'interno appunto della gestione del personale. Quindi inizio a condividervi mh lo schermo. Eccolo qua. Ecco qua. Allora, vedete tutti? Penso di sì, mi date un feedback positivo eventualmente. Di sì, Micaela ti vediamo. Perfetto. Allora, la prima cosa che cos'è il welfare aziendale? Come sappiamo il welfare aziendale è una forma di premialità verso i dipendenti. Spesso appunto con il nostro consulente di OSM piuttosto che con il nostro commercialista o consulente del lavoro cerchiamo di portare avanti quelli che sono dei piani incentivanti per i nostri dipendenti. Piani incentivanti che possono essere appunto fatti sulla base di determinati requisiti. Voglio premiare ad esempio il migliore, quindi il campione che c'è all'interno del mio staff, piuttosto che voglio premiare chi nella parte che gestisce l'amministrazione dello studio dentistico riesce quindi a ehm procurarmi un incassato diciamo maggiore quindi eh dei contratti per esempio delle cure dentistiche senza conto come capita spesso per per gli studi dentistici. Quindi una forma di premialità eh però diciamo cosa mh fa il welfare a differenza del del premio del saldo del classico premio che troviamo in busta paga. È completamente esente da quella che è la tassazione e la contribuzione. Quindi perché a volte mi chiedono i miei clienti devo fare il welfare? Sicuramente ecco come vedete dalle slide con il welfare vediamo che non esistono né contributi quindi né tassa non c'è né tassazione né contribuzione e quindi non esistono neanche per converso dalla parte del dipendente le cosiddette trattenute. Andiamo a migliorare la capacità di spesa per la famiglia e soprattutto andiamo a valorizzare il nostro ruolo in azienda perché andiamo a migliorare la capacità di spesa per la famiglia e quindi anche per il nostro dipendente perché una volta che io dico faccio un accordo con il dipendente o piuttosto sul nostro piano incentivante vediamo che quel dipendente al raggiungimento di quel determinato risultato deve ad esempio eh prevede che deve raggiungere l'obiettivo di cento euro quei cento euro che noi andiamo a mettere in busta paga come premio di produzione sappiamo che sono tassati sia per quanto riguarda la parte datoriale sia invece per quanto riguarda anche la parte del dipendente quindi se promettiamo al nostro dipendente cento euro per il raggiungimento di un determinato obiettivo sappiamo che al nostro dipendente quindi le tasche del nostro collaboratore entreranno settanta sessantacinque euro poi dipende dal contratto specifico che andiamo ad applicare per lo studio dentistico dalla parte invece datoriale sappiamo che quel premio di cento euro a noi costerà centocinquanta barra centosessanta euro quindi che cosa fa andremo soltanto con il welfare a migliorare un aspetto economico anche di un nostro collaboratore valorizzeremo sicuramente il nostro ruolo in azienda perché negli ultimi vediamo anni ehm il ruolo diciamo del welfare la voce soprattutto del welfare si è fatta sempre più forte per quali ragioni oggi con tutte le persone quindi tutti i clienti con cui parlo mh vado a riscontrare sempre la stessa problematico e c'è quella che non trovano più personale c'è un turnover importante piuttosto che i dipendenti diciamo stanno per un periodo in azienda dopodiché si vanno a vendere anche in un altro studio per poche diciamo centinaia di euro in più questo perché proprio perché ehm diciamo è cambiato quello che è il mondo del lavoro quindi anche i collaboratori diciamo sono cambiati nel corso del tempo quindi oggi sicuramente vanno a premiare arrestare sono più diciamo eh e un fondi consapevoli di quelle che sono le loro capacità eh e cosa cercano da un datore di lavoro in primis dopo diciamo un gran sondaggio abbastanza dettagliato che abbiamo fatto nel corso del tempo la formazione quindi vogliono sicuramente un datore di lavoro che li formi e questo anche la formazione anche che può rientrare in una forma di welfare sicuramente vogliono essere premiati eh vogliono essere premiati per i risultati in più che apportano all'azienda perché perché noi chiediamo sempre ai nostri collaboratori di essere azienda quindi di portare la maglietta dell'azienda ma una volta che il nostro collaboratore porta la maglietta dell'azienda d'altro canto è normale che eh vuole anche un risultato sicuramente eh non deve essere tutto ridimensionato comunque ricondotto ai diciamo ai soldi quindi allo stipendio ma sicuramente vogliono essere premiati e quindi il welfare sicuramente è una forma eh di di premialità eh che fa crescere l'azienda e va anche a diciamo tenere essere proprio una calamita per quelle che sono le risorse maggiori migliori in azienda quindi i campioni che ci sono all'interno della nostra attività voi qualsiasi domanda avete mi raccomando non esitate a scrivere che mh ne prendo atto e vi rispondo quindi qualsiasi deducidazione poi qual è ecco come dicevo lo scopo principale del welfare quindi come abbiamo detto sicuramente non c'è la tassazione non c'è la contribuzione i costi sono tutti deducibili che cosa significa? Che eh anche quando noi andiamo a pagare un nostro dipendente sicuramente il costo del dipendente all'interno della nostra attività quindi eh a livello appunto fiscale rappresenta un costo diciamo per l'azienda in questo caso i costi invece del welfare sono appunto tutti deducibili sono tutte spese deducibili quindi si va a creare praticamente un doppio beneficio a come abbiamo detto tutto ciò che andiamo a destinare in azienda al welfare è esente quindi esente da tassazione e contribuzione e quindi un win-win cioè ambo i lati non soltanto per l'azienda ma anche per il dipendente e b tutti i costi sono vediamo che portati in deduzione e quindi si va a creare quell'effetto calamita quindi le risorse migliori vogliono lavorare con te io non voglio entrare appunto nel medio di estremi tecnicismi con voi perché penso che alla fine parlare appunto con parole semplici sia assortisca l'effetto migliore per far appunto capire qual è il vero scopo del di un diciamo piano incentivante supportato dal welfare e qual è invece lo scompenso se un'azienda all'interno non ha no questo tipo di premialità sicuramente come dicevo si va a creare questo effetto calamita perché faccio sempre un esempio molto banale se io collaboratore tra l'altro anche molto bravo devo venire a lavorare da te che mi dai faccio un esempio 1.400 euro 1.500 euro quello che è anche 2.000 euro in busta paga netti piuttosto che vado a lavorare da micaela che mi dà il mio netto in busta ma oltre questo mi premia grazie anche un sistema di welfare secondo voi il dipendente con chi sceglie di collaborare sicuramente con micaela che oltre al netto garantito gli dà un piano di formazione e anche il piano incentivante quindi la consapevolezza nel dipendente di sapere che se lavora di più se lavora meglio se fa di più se ottiene dei risultati tangibili all'interno dell'azienda sarà anche retribuito attraverso una moneta che non è soggetta appunto a tassazione che non è soggetta a contribuzione quindi tutti i soldi che effettivamente entrano nelle tasche del dipendente e sono al netto e inoltre cosa ancora diciamo molto più attrattiva del welfare è che non è soltanto per il dipendente che cosa significa? Che possono usufruire del welfare destinato al dipendente anche tutti praticamente i familiari del dipendente e poi vedremo in seguito quali sono proprio i benefici, i servizi che possono essere praticamente acquistati attraverso il welfare. Vediamo se c'è qualche commento ok no quindi perfetto non ci sono domande fino adesso allora quindi andiamo avanti un attimo solo quindi cosa possiamo scegliere attraverso il welfare? Cosa si può scegliere? Cosa può diciamo scegliere il collaboratore? Iniziamo a fare una prima distinzione di welfare, non so se qualcuno di voi ne ha già dimestichezza ne ha già fatto qualcuno, il welfare si divide in due categorie un welfare che è un welfare praticamente in servizi acquistabili attraverso delle piattaforme specializzate per il welfare solamente noi di partner di impresa ne abbiamo strutturata ne abbiamo creata proprio una nostra grazie praticamente al nostro collega Carlo 200 ne abbiamo appunto studiata e messa appunto proprio una che diciamo è più vicina a quelli che sono proprio i valori di OSM soprattutto è molto più duttile e molto più diciamo vicina a quelle che sono le esigenze dei nostri collaboratori quindi un welfare che si va ad esplicare attraverso quindi una piattaforma welfare e un welfare invece che è in moneta quindi come l'imborso proprio all'interno del cedolino paga qual è la distinzione tra i due tipi di welfare? Andiamo diciamo ad analizzare un attimo di più nel dettaglio il primo welfare detto anche welfare puro è un welfare diciamo dove attraverso un piano incentivante si vanno a individuare quelle risorse migliori oppure quelle risorse che abbiamo introdotto nel piano incentivante e quel piano incentivante viene traslato a sua volta in un regolamento welfare che viene diciamo registrato e quindi esplica dopo la registrazione del cosiddetto regolamento welfare una volta registrato questo regolamento quindi con le quantità del welfare derogare i nostri dipendenti al raggiungimento di determinati obiettivi e non perché ricordiamocelo sempre che il welfare non è soltanto premiare all'incentivo alcuni collaboratori alcuni datori di lavoro talvolta per dare una spinta in più alla loro attività decidono una premialità a pioggia quindi in base alla crescita del fatturato piuttosto che all'aumento della marginalità dell'azienda stessa quindi questa prima categoria di welfare il welfare puro dopo aver registrato col consulente del lavoro il regolamento welfare con tutte praticamente le specifiche tutta la normativa che ne deriva inizia praticamente di spiegare i propri effetti e lo si fa attraverso una piattaforma quindi i dipendenti accederanno a questa piattaforma e mensilmente potranno scaricarsi la loro quota welfare e spenderla come queste che vedete in slide sono le tre categorie o il rimborso welfare in busta paga e in questa categoria rientrano servizi infermeristici tutto ciò che riguarda la sanità quindi in questa tipologia di welfare rientrate rientra anche soprattutto il vostro settore cioè un dipendente ad esempio attraverso un piano welfare può praticamente usufruire di quella quantità di welfare di cui è a disposizione anche per delle cure diciamo infermeristiche e dentistiche per l'abbadante quindi faccio un esempio se uno dei vostri collaboratori ha un diciamo un genitore piuttosto che un nonno di cui diciamo che ha bisogno ha bisogno dell'abbadante quindi anche quella quota di welfare può essere spesa per l'abbadante piuttosto che case di cure di riposo asili nido quindi l'iscrizione e la retta dell'asilo nido babysitter iscrizione a tutte le scuole quindi iscrizione a scuola le tasse universitarie le rette scolastiche libri scolastici abbonamenti per bus tram e diciamo quindi per i servizi di trasporto ancora un'altra tipologia invece il ticket per il welfare nazionale questo è un'altra tipologia ancora di welfare dove attraverso la piattaforma il dipendente vede praticamente quanto a disposizione quel mese di welfare e può scaricare sempre della stessa piattaforma con un QR code un ticket per quanto invece riguarda tutti quegli articoli per la persona quindi articoli per lei per lui faccio ad esempio scarpe borse vestiti short e sport e hobby case design pur me c'è i pacchetti per bambini tipo messo mirabilandia gardland questi lavanderia buoni pasto un'altra invece categoria ancora è il voucher locale attraverso praticamente il voucher locale che cosa si farà e qua entra in gioco praticamente il sistema vincente della piattaforma di partner di impresa perché perché spesso diciamo i progetti welfare all'interno delle aziende sono fallite per un motivo ben preciso cioè che sulle piattaforme ci sono alcune attività convenzionate dove dipendenti possono andare a spendere il loro welfare però spesso succede che quel tipo di piattaforme non vanno a incentivare quello che è il commercio locale o piuttosto faccio un altro esempio banale io sono solita andare in una determinata palestra quindi per me cambiare palestra dove c'è il mio personal trainer sarebbe un problema invece e quindi vado sulla piattaforma welfare vedo che la mia palestra non c'è io per pur di spendere quel welfare devo cambiare le mie abitudini quindi che cosa faccio preferiscono spenderlo proprio lo lascio accantonato là e questa è stata praticamente la morte in un certo qual modo del welfare il motivo per cui spesso e volentieri è una forma diciamo risulta essere una forma fallimentare quindi noi di partner di impresa ci siamo resi conto di questa esigenza del dipendente abbiamo creato un sistema praticamente dove si va a sponsorizzare quello che il commercio locale piuttosto che le abitudini specifiche di un collaboratore quindi che si che si fa attraverso questo voucher locale il dipendente attraverso la nostra piattaforma può accedere direttamente praticamente all'area delle convenzioni e faccio un esempio se io sono solita andare in una ricominata agenzia di viaggio c'è qualcuno forse che ha aperto il microfono ok controllo per favore se c'è qualcuno col microfono acceso lo spenga per cortesia ok quindi come dicevo se diciamo il nostro collaboratore è solito andare in quella determinata agenzia di viaggio piuttosto che in quella determinata palestra la nostra piattaforma tramite i loro operatori creerà una convenzione dove si crea proprio un matching tra il collaboratore e praticamente l'attività convenzionata dove lui è solito spendere o comunque andare per le sue attività che possono essere appunto viaggi hobby sport istruzione trasporti infanzia l'assistenza sanitaria l'assistenza sociale ok quindi creare a questa convenzione e il dipendente sarà libero di andare a spendere praticamente i suoi soldi dove meglio crede dove più desidera e questa diciamo una cosa non da poco che ci tengo a sottolineare perché qual è praticamente la razza del welfare quindi cosa si poggia alla base del welfare il benessere del collaboratore il far sì che la nostra azienda abbia il cosiddetto effetto belen effetto l'effetto wow come lo chiamo io cioè nel senso che il nostro collaboratore mi renda di più sia felice di venire a lavorare e sappia che la nostra azienda dà di più rispetto ad un altro grazie al superato che mi apporta praticamente ricchezza e prosperità all'interno della mia attività e se questo welfare alla fine si diciamo trasforma in un blef cioè nel senso se io ti do dei soldi che tu poi in realtà non puoi andare a spendere viene meno praticamente la funzione viene meno lo scopo per il quale noi abbiamo fatto il welfare nel corso del tempo ciò è capitato proprio perché le piattaforme oggi non permettono di fare questo comunque non è agevole per le piattaforme fare questo grazie a questo sistema che abbiamo studiato quindi oggi è possibile questo cioè proprio andare a matchare il dipendente praticamente e le attività dove lui diciamo vuole spendere e quindi far sì che effettivamente quei soldi quel denaro diciamo in servizi che lui percepisce li percepisca davvero come denaro da spendere e quindi come un potere d'acquisto maggiore poi andiamo avanti ci sono domande fammi controllare in chat no non è una domanda michaela sì ma posso fare anche un'assicurazione sanitaria sì puoi fare anche un'assicurazione sanitaria quindi non ho messo diciamo per semplificazione non ho messo tutto ciò che effettivamente col welfare si può andare praticamente a fare però per esempio con il welfare puoi fare le assicurazioni si possono anche pagare addirittura gli interessi passivi del mutuo cosa bella diciamo del welfare come rimborso infatti c'è un altro esempio diciamo per farvi entrare proprio ancora più nel merito diciamo di dell'argomento la diciamo la cosa forse a volte più semplice proprio il rimborso welfare in busta paga come avviene questo rimborso welfare in busta paga faccio un esempio banale dell'asilo nido piuttosto che la mensa scolastica ai nostri figli praticamente il dipendente il collaboratore ogni mese si sa si paga una retta che sia alla scuola piuttosto che per la mensa piuttosto che per altre cose diciamo che possano riguardare o se stesso o i figli che fa faccio l'esempio dell'asilo nido andrà alla scuola gli lascerà una ricevuta di pagamento quella ricevuta di pagamento che ne so 150 euro faccio l'esempio per la mensa scolastica la andrà a caricare direttamente lui in autonomia sulla sua piattaforma welfare allora io sono micaela diciamo che questo mese ho accumulato 300 euro di welfare l'asilo nido mi è costato 150 euro e ho la ricevuta carico la ricevuta all'interno della piattaforma e praticamente come conseguenza la piattaforma si collega praticamente al consulente del lavoro il consulente del lavoro vede che ci sono 150 euro da rimborsare e li va inserire direttamente in busta paga come rimborso spese ovviamente detassato e questi sono soldi che tornano indietro praticamente come se il dipendente avesse anticipato una somma che gli rientra praticamente in busta paga perché il suo welfare è il welfare che ha accumulato aveva 300 gli restano altri 150 può fare la stessa cosa per quanto riguarda un abbonamento anche a teatro al cinema perché diciamo che il welfare lo dice stesso poi la parola di benessere va a riguardare tutte quelle attività di benessere proprio per la persona quindi che fanno praticamente capo alla persona stessa una piccola parte invece come vediamo i ticket per il welfare nazionale va a riguardare proprio beni della per esempio un cellulare un vestito un paio di scarpe quindi il meccanico la lavanderia quindi quelle spese che non riguardano la parte diciamo sociale del nostro dipendente tu Oriana se riesci aiutami soltanto a vedere se ci sono poi domande nel frattempo no no cioè no no siamo a posto per ora e quindi questa prima tipologia di welfare che a me piace appunto definire il welfare puro si esplica proprio nei servizi alla persona attraverso l'utilizzo di una piattaforma a cui si è accesso tramite la stesura regolamentata da un consulente del lavoro di un regolamento welfare consegnato un altro tratto del welfare il welfare una volta regolamentato e depositato diventa obbligatorio che significa quanto la retribuzione che significa questo che se io dico che nell'anno duemilaventidue devo erogare cinquemila euro di welfare ai miei dipendenti al raggiungimento di quel determinato risultato io li devo erogare non è che mi posso tirare indietro è normale che il nostro collaboratore dovrà raggiungere ottenere quel risultato una volta ottenuto quel risultato va erogato un'altra domanda che mi fanno sempre è questa parte dipendenti no e se faccio finta mi accumulo diecimila cinquemila settemila euro di welfare durante l'anno li devo spendere tutti in quell'anno oppure sono soldi persi no non sono soldi persi sempre attraverso il regolamento welfare fatto come si deve si può andare anche a regolamentare questa parte qui cioè che il refuso quello che il dipendente non è riuscito a spendere durante l'anno in corso può spenderlo durante i due anni successivi e quindi questa è la prima parte diciamo del welfare attraverso le piattaforme quindi welfare attraverso servizi alla persona molto spesso diciamo cosa mi chiedono mi chiedono se è possibile erogare proprio in denaro del welfare e dipendenti anche questo è possibile però andiamo diciamo attraverso un'altra tipologia di welfare che in questo caso ha bisogno invece del diciamo di un accordo sindacale quindi entra in gioco oltre il datore di lavoro il dipendente e il consulente del lavoro anche un'altra parte che appunto il sindacato molti mi chiedono se faccio un welfare attraverso il sindacato il sindacato mentre in azienda no assolutamente no il sindacato serve insieme al nostro consulente del lavoro soltanto per la stipula di un accordo che può essere anche un accordo di secondo livello dove si va a stabilire che al raggiungimento di determinati obiettivi quei dipendenti suddivisi per categorie andranno a percepire un premio economico che viene riconosciuto come premio di produzione in busta paga e sarà detassato quel premio che significa che non si pagherà la tassazione praticamente intera ma una piccola percentuale che in alcuni casi praticamente arriva al dieci per cento che cosa significa questo che si possono anche andare a premiare quindi i dipendenti attraverso proprio la busta paga quindi economicamente ci sono dei limiti sì cioè questo welfare prevede un limite massimo di tremila euro anni che cosa significa questo che non posso sorpassare la soglia dei tremila euro anni per quel tipo di erogazione in welfare anche in questo caso quindi il beneficio è di entrambi i lati quindi sia parte dipendente dove sono detassati sia parte datore di lavoro ehm dipende praticamente quello che il dipendente vuole e quello che l'azienda cerca noi diciamo come attuiamo solitamente in partner di imprese il welfare andiamo in primis a constatare se il piano incentivante quindi alla base diciamo sia ehm in linea con quella che è l'azienda quindi solitamente andiamo a fare prima diciamo dopo aver visto quella che è un piano diciamo finanziario quindi dopo aver visto quella che è la gestione finanziaria del dell'azienda dello studio dentistico andiamo a vedere quindi quanto effettivamente l'azienda può erogare di welfare ai propri collaboratori in base a quello una volta quindi stabilito il quantum si può anche pensare ad un welfare librido quindi un welfare che sia diciamo che si va a diramare sia attraverso quello che è un accordo sindacale e quindi un welfare proprio in soldi premiato quindi come premio di produzione in busta paga sia attraverso un welfare praticamente che si va a diciamo ad esplicare attraverso quello che è la piatta le piattaforme diciamo che ci sono sul mercato del welfare eh e quindi in servizi per la persona come lo si fa questo lo si fa attraverso un sondaggio cioè nel senso il consulente del lavoro dopo quest'analisi più che altro con il consulente di osm finanziaria quindi per andare a vedere effettivamente quanto noi aziende possiamo erogare di welfare si va a fare un sondaggio tra i dipendenti attraverso un questionario si va a fare poi di persone un'intervista a tutti i collaboratori e vedere quindi loro con duecento trecento quattrocento euro in più come preferiscono spendere questi soldi dove maggiormente il loro interesse il loro gusto praticamente è indirizzato mensilmente sembra detto così un lavoraccio ma in realtà non lo è perché mh quando diciamo introduciamo un'azienda uno strumento così forte che è quello del welfare così potente dal punto di vista proprio di ehm come posso dire motivazione no del dipendente bisogna anche andare a eh diciamo vedere effettivamente i loro gusti dove sono indirizzati e creare un piano che sia adatto non alle nostre esigenze ma in quel caso alle esigenze dei collaboratori di collaboratori stessi quindi spesso mi è capitato proprio questo cioè di andare a creare piani incentivanti ibridi da una parte fatti con l'accordo eh sindacale e quindi nel limite massimo di tremila euro annui cada uno dall'altra parte fatti attraverso la piattaforma welfare bisogna vedere appunto il quantum del welfare a fine anno per ogni dipendente diciamo a quanto quanto è un'altra domanda ancora che spesso mi fanno e manda in confusione un po' su quello che è l'argomento welfare è se premi un collaboratore li devo premiare tutti bugia quando si va a fare un piano diciamo incentivando un piano welfare la prima cosa è quello di andare a fare un check up un controllo diciamo effettivo delle busse paga andare a vedere in primis tutte le mansioni dei dipendenti se sono effettivamente quelle che i dipendenti stanno svolgendo perché non di rato mi è capitato di avere alcuni studi per esempio dentistici ma anche altri un altro tipo di attività dove casomai l'addetta alla poltrona era assunta come amministrativa quindi prima di tutto prima di introdurre un welfare in azienda bisogna come dico io andare a mettere a posto le carte quindi vedere se effettivamente tutti i dipendenti sono assunti a livello giusto e con la giusta mansione e il welfare ecco non devi non bisogna premiare per forza tutti i dipendenti col welfare ma categorie di dipendenti che significa con un piano di welfare un piano incentivante io per esempio voglio andare a premiare una categoria gli igienisti faccio un esempio che in una giornata riescono a portarmi a termini più geni dentali piuttosto che un'altra categoria che in quella giornata mi è riuscito a fare un maggior numero di recupero crediti oppure un quantum di recupero crediti quindi il welfare va a premiare per categorie e si si può premiare anche diciamo come premio di produzione quindi che significa il raggiungimento proprio di un obiettivo prefissato al dipendente ma questo bisogna strutturarlo bene normarlo bene all'interno del regolamento welfare che andremo a depositare perché se non è normato bene quindi se non è regolamentato diciamo attraverso praticamente tutta la disciplina si distia che poi si va in confusione quella diciamo quella voce non ci viene riconosciuta come welfare quindi bisogna soltanto attenzionare e diciamo diversi aspetti del diciamo del welfare e soprattutto delle paga e quindi andare a vedere effettivamente fare uno screening un check up di tutti i cedolini paga e vedere effettivamente tutti i dipendenti come sono assunti e andarci a dividere tutti i dipendenti per settori e scegliere quello che è il nostro premio di produzione o la nostra tipologia di welfare che più si confa a quelle che sono le specifiche esigenze dello studio dentistico e soprattutto bisogna andare a gestire bene quello che è una finance o un piano finanziario quindi vedere bene dalla gestione finanziaria a quello studio in quel determinato arco temporale da 1 a 6 mesi e poi da 6 mesi a 12 quanto effettivamente può andare a derogare di welfare e quindi diciamo che siamo arrivati alla fine della prima parte quindi che tipo di categorie di welfare ci sono ne abbiamo detto appunto sono due un welfare di natura regolamentale un welfare di natura sindacale che in realtà il il classico premio di produzione dei tassato in che modo si atteggiano questi welfare e che risultato possiamo attenere soprattutto i benefici fiscali per lo studio per la srl per qualsiasi forma praticamente giuridica il vostro studio oggi abbia perché la parte secondo me più importante e soprattutto più forte del welfare è proprio quella cioè il creare questo effetto wow questo effetto calamita il sapere il sapere oggi la consapevolezza oggi dell'azienda di sapere che le risorse migliori ce ne dobbiamo tenere strette ma soprattutto vanno premiate e questo sicuramente va ad innescare un processo di innovazione all'interno dell'attività ma soprattutto un processo di come posso dire di di fare in modo che la risorsa diciamo migliore emerga e di conseguenza anche tutti gli altri che casomai stanno dietro perché comunque si tende sempre ad imitare all'interno di un'attività il migliore questa è una cosa che ho sempre potuto constatare diciamo con la mia attività di consulente del lavoro nella gestione delle risorse umane quando diciamo mettiamo la miccia quando sappiamo che quella determinata risorsa può spingere noi dobbiamo dargli gli strumenti necessari affinché quella risorsa spinga sull'acceleratore e faccia crescere per converso anche la nostra azienda allora io se riusciamo ho fatto una cosa simpatica cioè nel senso che ho fatto prima di seguire con l'ultima slide ci sono un paio di domande credo che ho risposto però le leggiamo allora Emanuele scrive quanto è l'importo massimo erogabile per dipendente? Allora con il welfare puro come detto è limitato cioè nel senso non abbiamo un limite diciamo tutte le somme sono completamente detassate né tasse né contributi e non c'è un limite quindi possiamo erogare quanto vogliamo con il welfare sindacale quindi l'altro tipo di welfare quello dove diciamo vengono erogati direttamente dei soldi in busta paga quindi rientra che rientra a far parte proprio di quella che è per la retribuzione come premio di produzione massimo 3000 euro l'anno per ciascun dipendente quindi uno è senza limite l'altro invece è il limite di 3000 euro massimo l'altra domanda invece se si può fare il welfare misto come avevo detto sì e vi dirò di più ad esempio se un collaboratore dove abbiamo attuato per esempio in un'azienda dove abbiamo attuato il welfare misto si trova bene con praticamente l'utilizzo della piattaforma quindi si riesce a pratichere sulla piattaforma e riesce a trovare i suoi vantaggi anche perché vi posso garantire che il welfare un viaggio è speso quasi tutto il welfare proprio perché la cosa bella del welfare è proprio che permette anche quindi di accedere alle agenzie di viaggio quindi ecco se pensiamo anche alle vacanze estive però per esempio molti dipendenti è capitato in passato che si sono trovati così bene nell'utilizzo della piattaforma che hanno convertito quel premio praticamente interrogabile in denaro in busta paga quindi quello tramite accordo sindacale in welfare e anche questo si può fare cioè si può anche andare a convertire per esempio quelle somme che noi abbiamo in denaro liquido le possiamo andare a convertire praticamente nella eh con il welfare puro quindi nei servizi derivanti dalla piattaforma inoltre diciamo e non voglio dimenticare diciamo di dirlo prima che terminiamo praticamente l'argomento spesso mi è capitata una cosa spesso eh non mi è capitato spesso e volentieri mi è capitato una cosa diciamo nella mia professione che è proprio questa cioè nel senso che molti collaborati molti diciamo molte aziende molti clienti andavano proprio perché la tassazione è alta si sa il costo comunque del lavoro in Italia è abbastanza alto se non siamo seguiti bene dal punto di vista della consulenza del lavoro è così mi dicono no Michela sai io gli do così questi soldi in black cosa più errata non ci può essere proprio perché oggi abbiamo questo strumento che è molto potente che ci permette di tutelarci da entrambi i lati in primis in questo modo andiamo a scaricare i costi costi che non potremmo scaricare in quell'altra forma diciamo un po' fuori etica dall'altra parte siamo tutelati perché eh io dico sempre una cosa eh fin quando le cose vanno bene vanno bene ci può stare che delle esperienze negative di vita di un nostro collaboratore lo facciano cambiare non tanto dall'oggi al domani ma nel corso degli anni lo facciano cambiare e questo nostro collaboratore inizia andare un po' fuori etica e quindi decida anche dopo alla fine di farci una bella avvertenza dove casomai tutte quelle somme che noi gli abbiamo erogato diciamo fuori busta paga diciamo così non ci vengono neanche riconosciute quindi come si dice oltre il danno anche la beffa per cui questo sicuramente oltre a tutti i benefici dal punto di vista tassazione di contribuzione quindi anche di fiscalità di deducibilità porta anche un altro beneficio che è quello della tutela aziendale ok c'è un'altra domanda allora che in questo c'è con legge la legge di bilancio 2022 eh allora come importo massimo 258 euro allora quello non è il welfare quello è il welfare praticamente nazionale che cosa significa? Eh l'anno scorso praticamente questa cifra nazionale che diciamo lo Stato faceva dava diciamo come benefit all'azienda e derogare i propri collaboratori era di 516 euro oggi è stato abbassato un'altra volta come due anni fa a 258 euro eh quelli diciamo sono i classici ticket che noi possiamo dare ai nostri collaboratori spesso vengono dati ticket carburanti ticket pasti e quella è la cifra che rientra in quei 258 euro quindi è il classico ticket nazionale che è spendibile soltanto in questa cifra qua di 258 euro ma non rientra in quello che è il piano welfare cioè tu quei Emanuela giusto? Quei 258 euro li puoi dare anche senza il regolamento welfare cioè domani vai compri fino a 258 euro di buoni che ne so carburanti e buoni spesa per un dipendente e li eroghi il welfare è un'altra cosa cioè il piano welfare il piano incentivante ehm regolamentato attraverso il regolamento welfare depositato è un'altra tipologia il cosiddetto welfare puro quello è semplicemente un ticket nazionale spendibile praticamente da tutti i datori di lavoro in quel limite massimo sono state esaustive Emanuela se non ti è chiaro qualcosa scrivimi non ti preoccupare quindi se riusciamo vorrei se riuscire anche voi col vostro computer allora questo è il nome praticamente il sito dove si può accedere praticamente alla piattaforma io cerco di farlo anche dal mio computer e mettervelo in condivisione interrompo condivisione quindi allora se le disegnate questioni se andate praticamente su google e cliccate o di più questo praticamente indirizzo internet qua vi faccio vedere come che risparmi effettivamente che sia attraverso il welfare quindi interrompo questa condivisione si è interrotto oriana la condivisione sì sì ti vedo adesso non vedo più le slide qua per condividere ancora se vuoi vedere se riesco a se anche loro vanno sulla sì Michela scusami potresti mettere il link anche nella chat così almeno vanno direttamente da zoom ok allora voglio chiudere qui eccomi lo condivido subito arrivato sì non vedo il link però nella chat vuoi girarlo guarda te la metto qui dovresti vederla guarda c'è un'iconcina clicchi sopra e basta che fai un'incolla altrimenti se vuoi farcelo vedere va benissimo lo stesso poi tanto lo giro ai partecipanti eccola qui allora chat grazie dottor Valerio Costa grazie mille ha messo il link eccolo qua ah ecco non l'avevo girato anch'io ok perfetto quindi se entriamo su questo link fammi mettere la condivisione dello schermo un attimo allora condividi schermo ecco qui vedete lo schermo condiviso sì ok quindi se andiamo su quest'area pagomino in alto eccola qui i partecipanti però non mi fa andare a me non so perché bene un problema tecnico allora devi accedere per per entrare nella piattaforma no 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 e forse non vada al sito perché provo a andare su pagomino ecco a cliccare ma non va può essere che può essere che siamo collegati quindi faccia un po' di a livello di connessione sai prima io vedo un attimo se riesco senza la condivisione perché era carino simulare proprio ecco il il risparmio effettivo no che sia attraverso il il welfare ecco qua pagomino io ci sono fammi vedere se riesco a azienda fammi vedere se riesco a condividerlo ecco qui eccomi allora se vediamo da questa scherma no ecco effettivamente non mi fa andare non so perché quando rientro dentro vediamo mi fa scrivere allora se per esempio inseriamo se vedete che riconoscimento vuoi dare ai tuoi dipendenti e scriviamo all'interno praticamente un importo mensile facciamo finta che io sia un'azienda con 5 dipendenti e voglio riconoscere mensilmente al risultato praticamente al raggiungimento di un premio di produzione 200 euro per ciascun dipendente facciamo finta oppure che totalmente per 5 quindi dipendenti si voglia riconoscere questi 200 euro 200 e qua scrivo 200 il numero di dipendenti sono 5 ok mi esce praticamente proprio la schermata qui sotto simile del simile del welfare e ti dice praticamente in un anno quanto effettivamente avrei risparmiato quindi ti dice che tu in un anno azienda per erogare questa cifra i tuoi dipendenti avrei risparmiato circa praticamente 60.000 euro e va anche a dettagliare come avrei risparmiato questi soldi cioè effettivamente che senza welfare in realtà saresti andato a pagare tra tassazione e contribuzione ti dice che per erogare questa somma praticamente di welfare avresti speso di IMSS 1.102,80 di tassazione IRPEF 2.179,44 per un totale di 3.282,24 euro questa è la stima a carico dei dipendenti che significa che come dicevamo all'inizio anche per i dipendenti tutto ciò che andiamo a erogare come premialità è tassato e quindi il potere di acquisto si abbassa perché 100 i famosi 100 euro che io ti do te ne entrano in tasca 70 quindi questa parte qua quindi stima a spese a carico dei dipendenti e tutto quello che i dipendenti avrebbero perso in tassazione invece spesa a carico dell'azienda ci dice che di imposta saranno 3.600 euro di INA il 600 euro per un totale di 4.200 euro grazie al welfare come vediamo è tutto una barra a zero perché ovviamente sono diciamo è tutta una cifra netta ma sia per il datore di lavoro sia per i lavoratori e quindi quello che avrà speso l'azienda sarà soltanto praticamente il netto che saremo andati a concordare all'interno del regolamento welfare e questa è una cosa molto carina anche se diciamo voi da casa vi volete collegare al sistema e farvi un'idea diciamo rispetto al piano incentivante che oggi avete all'interno dell'azienda di quanto oggi spendete nei premi di produzione e quanto in realtà andate a risparmiare con il welfare come vedete è una diciamo è una è una battaglia facilmente vinta dal welfare proprio perché come vedete sotto ancora la percezione poi dei costi qual è a carico dell'azienda un F24 che sarà intorno ai 7.482 euro per un netto poi di 8.717 euro mentre se la cifra diventa la percezione dei costi qual è il welfare sono soltanto appunto i 12.000 euro del welfare al netto delle spese e in più sono tutti praticamente deducibili e questo appunto è la percezione dei costi quindi 12.000 euro più ovviamente gli 840 dei costi della piattaforma quindi del transato rispetto ai 16.000 quindi su questo importo diciamo di 12.000 euro il risparmio è circa di 3.360 euro e lo dico sempre cioè nel senso sono soldi in più che stiamo levando alla nostra azienda per degli eventuali investimenti soldi che in realtà potremmo erogare quindi potremmo destinare in più al welfare spesso ecco ci troviamo a fare i conti 100 euro in più 100 euro in meno al nostro collaboratore in questo caso potremmo andare a ottimizzare anche diciamo quest'altro aspetto quindi eh se volete diciamo farvi anche voi un'idea a casa è una piattaforma che abbiamo studiato proprio per questo per rendere palese immediatamente all'azienda quanto effettivamente può risparmiare del welfare ovviamente i conteggi che voi vedete qua sono fatti su contratti a tempo indeterminato quindi con contratto base è normale che poi c'è qualche aggiustamento perché ci sarà all'interno del nostro staff chi è assunto come come stagista piuttosto che come apprendista quindi è normale che la simulazione è fatta sì su conteggi reali ma su quasi tutti i contratti a tempo indeterminato quindi poi la bisogna andare entrare nel dettaglio rispetto a quella che è la platea dei nostri collaboratori io se interrompo la condivisione ecco qui se avete qualche altro c'è altra domanda io sono qui a vostra completa disposizione mi fa piacere rispondere vediamo se c'è un'altra domanda ci sono domande se vuoi Michela intanto possiamo andare avanti con il webinar ok nel frattempo c'è qualche altra domanda magari alla fine la vediamo insieme ok così andiamo avanti un po il webinar così facciamo partecipare anche massimiliano ok ok massimiliano ci sei sì sì ci sono perfetto perfetto allora io direi massimiliano mandiamo pure avanti il webinar con la gestione economica e dopodiché vediamo se nel frattempo ci sono delle domande le facciamo così chiudiamo per le 10 e 20 10 e 25 va bene sì intanto cercavo di condividere anch'io le slide sì le vedo vedete sì ok vabbè cercherò di essere un attimino veloce più breve tanto gli spunti che ci ha dato Michela sono tantissime erano molto interessanti e come avete potuto già constatare no tutte queste informazioni che abbiamo acquisito sono strettamente legate poi all'aspetto della marginalità e della gestione economica dello studio no perché come facciamo noi a quantificare un eventuale incentivo se poi non sappiamo neanche noi quanto guadagniamo su quale prestazione e quindi quanto è la nostra marginalità sulle varie attività che facciamo quindi questi argomenti sono strettamente legati secondo me è stato molto interessante comunque acquisire questi spunti per poter poi fare delle valutazioni in questi termini qui allora per quanto riguarda la nostra filosofia no aziendale e cercherò anche qui di essere abbastanza veloce perché sono tante slide però voglio soltanto stasera darvi degli spunti dei concetti in modo che voi possiate già applicare da domani qualcosa nei vostri studi la nostra filosofia si basa appunto sul controllo come sapete noi dobbiamo sempre di più dedicare più tempo non solo alla gestione extraclinica ma anche alla gestione non solo la gestione clinica ma anche la gestione extraclinica no dello studio e per questa clinica quindi che cosa intendo organizzazione del lavoro quindi gestione del team delle risorse comunicazione perché soprattutto dopo il covid è diventato ancora più importante questo aspetto e poi dedicare una parte del nostro tempo anche alla gestione economico finanziaria in pratica il nostro lavoro è quello di allontanare voi dentisti un po dalle poltrone perché dovete cercare di dedicare trovare del tempo anche per fare questo tipo di attività extraclinico naturalmente per fare tutto ciò per comprendere poi ed attivare un sistema efficace di controllo economico finanziario dello studio è necessario attivare proprio un implementare un sistema di controllo attraverso una misurazione dei dati e quindi attraverso un sistema di statistiche che ci permette di analizzare determinati dati e poi di valutare quale tipologia di azioni correttive eventualmente fate in pratica noi dobbiamo creare quello che definiamo un cruscotto dello studio che è composto da un gestionale che ci sono ancora purtroppo degli studi che non utilizzano un gestionale quindi lavorano soltanto con strumenti cartacei dove naturalmente il lavoro è un attimino un po più difficoltoso di raccolta dati e poi andiamo a integrare questi dati che vengono forniti dal gestionale con dei file specifici che rappresentano appunto come vi ho detto un po il il cruscotto dello studio quello che io vedo visitando tanti studi anche chi ha un gestionale nel proprio studio lo utilizza poco utilizza massimo il 10 per cento di tutte le funzionalità quindi io quello che posso esortare e cercare di da domani in poi anche fare formazione specifica su quello che il boss gestionale e quindi andare a imparare meglio quelle che sono alcune funzioni soprattutto per quanto riguarda l'area delle statistiche che possono essere appunto molto importanti in termini proprio di raccolto e misurazione dati quindi noi che cosa dobbiamo fare dobbiamo andare a fare è a creare come se fosse un pannello di controllo dove andiamo a raccogliere tutti i dati per quanto riguarda alcuni parametri molto importanti per quanto riguarda la misurazione dei dati del nostro studio che possono essere quello che io vi posso suggerire dal vostro gestionale raccogliere ogni mese il numero di prestazioni la tipologia di prestazioni che fate quindi quante sedute di igieni quanti terapie carinali quali quanta protesi quanti impianti e così via perché questo è un primo dato che può aiutarci dopo a fare poi un'analisi economico finanziaria per quanto riguarda la marginalità inoltre questo pannello di controllo deve anche fornirci settimanalmente qui se ci sono dei clienti che seguo possono confermare che inviano ogni settimana le loro segretarie dei file che vengono appunto da noi predisposti dove noi rileviamo alcuni parametri fondamentali che possono essere il numero di geni numero di prime visite la conversione dei nuovi pazienti il numero di pagamenti anticipati cioè tutta una serie di dati che ci aiutano naturalmente a comprendere e si accendono come noi vediamo in questo questo esempio in questa diapositiva delle spie e ci fanno capire dove eventualmente noi andremo ad intervenire ora per andare più nella nello specifico una buona gestione economica dello studio deve eh focalizzarsi su tre macro aree fondamentali che vengono controllati in sequenza così come avviene eh come c'è scritto qui il fatturato il margine e la spesa il fatturato cioè quello che si incassa il margine l'utile che rimane e la spesa andando a focalizzarsi poi su su quelli che sono i costi dello studio eh diciamo che noi quando entriamo negli studi il nostro lavoro da consulenti ci focalizziamo come primo obiettivo naturalmente quello di incrementare il fatturato perché se non c'è il fatturato non ci sarà neanche margine e questo è il primo indicatore eh che dovremmo tenere sotto controllo per far sì poi che possiamo controllare gli altri due aspetti che abbiamo visto nelle slide questa slide forse l'avete già vista altre volte però dobbiamo naturalmente fare un parametro di riferimento per quanto riguarda il numero delle poltrone eh oppure il numero delle sale operatorie dove noi in base al numero eh dei riuniti nel nostro studio abbiamo dei parametri e degli obiettivi da raggiungere secondo i nostri parametri in ergonomia una poltrona dovrebbe fatturare per essere ben strutturato lo studio e quindi ben organizzato da duecentocinquanta a trecentomila euro l'anno quindi come si vince nel grafico eh due poltroni da cinquecento in su tre poltrone così via dalla quinta poltrone in su questo parametro si abbassa e quindi non avremo eh più i duecentocinquanta trecento a poltrona ma si può abbassare a duecento perché naturalmente poi la gestione eh viene un attimino eh modificata però questo è il primo obiettivo che noi dobbiamo portare lo studio a un obiettivo di fatturato dai duecentocinquanta ai trecentomila per poltrona questo per capire un attimino il nostro parametro iniziale poi per quanto riguarda il naturalmente parlo di quei quelle cifre che ho dato io parlo sempre con studi che lavorano a tempo pieno quaranta ore settimanali nel caso invece ci siano studi che lavorano eh venticinque ventisei trenta ore in quel caso lì andremo a calcolare quello che definiamo fatturato normalizzato cioè in base al numero delle ore eh quei parametri naturalmente scenderanno eh livemente poi per quanto riguarda invece poi eh la domanda che ci fanno spesso com'è che noi dobbiamo andare a incrementare il fatturato quando non riusciamo a raggiungere quegli obiettivi che abbiamo visto eh chi conosce il no il dottor Beretta ha più volte spiegato questo acronimo no? Avpim cioè il fatturato si incrementa se vengono integrate in maniera ottimale queste cinque attività attrarre, vendere, produrre, incassare e mantenere eh come andiamo a sviluppare queste attività? Attrarre che vuol dire? Attrarre vuol dire fare marketing cioè quando non si fa un buon marketing cioè sia di marketing interno che esterno eh naturalmente abbiamo poche prime visite e quindi lo studio non cresce perché questo è il primo indicatore per far crescere lo studio aumentare le prime visite. Le prime visite aumentano eh attraverso il marketing interno quindi passaparola, recensioni eh e varie attività all'interno dello studio e marketing digitale. Vendere vuol dire saper capire i bisogni quindi avere una buona comunicazione. Quando c'è la vendita bassa ci sono o problemi di bassa comunicazione io parlo sempre a livello di marketing o problemi in segreteria per quanto riguarda l'aspetto commerciale dove magari una segretaria che si occupa dell'aspetto commerciale non è ben formata o non ha le giuste attitudini. Quindi in questo caso dovremmo agire in queste due aree segreteria e marketing interno. Produrre vuol dire saper lavorare bene in che senso? Cioè è avere uno studio organizzato soprattutto sotto l'aspetto dell'area clinica. Cioè il titolare non può fare tutto da sé quindi deve avvalersi di collaboratori quindi noi dobbiamo essere in grado di strutturarci in modo tale che queste cure vengono prodotte in maniera ottimale anche dai nostri consulenti. Incassare invece vuol dire avere una buona gestione amministrativa cioè e segreteria naturalmente. In questo caso dobbiamo predisporre dei piani di pagamenti che devono essere rispettati dai dai nostri pazienti e spingere molto sul pagamento anticipato che ci darà poi parecchia liquidità come vedremo in seguito. E poi l'ultima fase quello di mantenere cioè vuol dire avere una buona fidelizzazione del paziente. C'è una politica di mantenimento del paziente basato su controlli, ripoldo dei pazienti dormenti, richiamo di igieni e così via. Quindi quando noi riusciamo a mixare queste cinque attività avremo un incremento del fatturato stesso. Quindi il nostro lavoro è fare soprattutto questo per aumentare il fatturato. Poi il nostro secondo indicatore che abbiamo visto è il margine. Come dice il nostro dottor Daniele Beretta il fatturato è vanità e il margine è salute. Che vuol dire questo? Che tante volte noi vediamo studi che magari hanno anche dei fatturati ottimi però sui conti correnti resta ben poco. Questo perché? Perché lo studio non è gestito in maniera ottimale. Cioè che vuol dire? Il primo indicatore per capire se c'è marginità nello studio è valutare se il conto corrente cresce. Infatti a proposito di quel sistema di statistiche che noi implementiamo all'interno dello studio uno di quei file riguarda proprio il conto corrente dello studio dove noi valutiamo per cassa tutte le entrate e le uscite del mese e facciamo contitolare una sorta di previsioni sia di incassi che di uscite da qui ai prossimi sei mesi. In questo modo se vediamo che il conto corrente cresce è il primo indicatore che c'è marginità all'interno dello studio. Questo file che noi appunto denominiamo quello che è lo stress test. Poi per quanto riguarda gli obiettivi in termini di marginalità come abbiamo visto per il fatturato dove ci sono dei parametri per il poltrona anche per la marginalità noi dobbiamo andare a porci degli obiettivi di quanto debba essere oggi nell'edontorità italiana per come è la situazione attuale del mercato un buon margine. Cioè da premette che non sono più i tempi d'oro di una volta quindi oggi uno studio ben organizzato e ben strutturato riesce ad acquisire una marginalità all'incirca del 40-50% lordo. Qui stiamo parlando sempre di lordo che poi si tramuta in margine netto intorno al 20-25% perché come sappiamo a siccome a seconda se lo studio è inquadrato cioè strutturato come libero professionista dove la tassazione ormai è quasi più del 50% oppure come SRL o STP dove la tassazione è un attimino più bassa però come sappiamo in alcune regioni tipo la campagna ora anche inizia nel Lazio in alcune regioni del sud non è più così facile ottenere un'autorizzazione sanitaria per l'olontoriatria per l'SRL quindi bisogna stare molto attenti all'aspetto fiscale e quindi capire con un buon commercialista naturalmente come puoi elaborare una strategia fiscale per poter avere una tassazione adeguata. Ora come facciamo a calcolare noi il margine di uno studio? Noi cerchiamo di implementare quello che chiamiamo una sorta di contabilità just in time cioè in tempo reale cioè noi dobbiamo andare a implementare una contabilità che sia più aggiornata di quello del commercialista quindi dobbiamo avere una contabilità in tempo reale e il primo step è quello di andare a raccogliere tutti i costi eh dello studio e li distinguiamo in costi fissi e in costi variabili. Ora andiamo a vedere perché naturalmente eh non voglio essere troppo tecnico quindi eh velocemente vi vi faccio un riassunto un'indicazione di quelli che sono i costi fissi e quali sono i costi variabili. I costi fissi sono considerati un po' la spesa cattiva dello studio perché sono quei costi che non sono legati alla produzione quindi che vengono si manifestano anche se lo studio fosse chiuso quindi in pratica eh sono le utenze, gli affitti, i mutui, eh le manconizioni ordinali, il personale, il libro paga, gli oneri bancari, cioè tutto ciò che noi sosteniamo all'interno dello studio anche se questo studio non fa produzione e quindi il primo step di consulenza è quello di di tenere sotto controllo e di non far aumentare troppo i costi fissi all'interno dello studio stesso. Tra i costi fissi naturalmente ci sono anche tutte le tasse e le vari tipi di consulenza del lavoro, fiscale, legale, d'azienda e lo stesso stipendio del dentista perché come abbiamo più volte ripetuto nella nostra filosofia il dentista deve prendersi uno stipendio, deve pagarsi come se fosse il miglior consulente dello studio però quello che vediamo noi spesso il dentista eh non ha uno stipendio regolare. Quando gli incassi aumentano magari si prende di più, quando diminuiscono si prende di meno, mentre in realtà per costruire anche una sorta di equilibrio a livello finanziario si dovrebbe prevedere uno stipendio fisso eh per il lavoro che naturalmente eh va a eseguire. Poi andiamo a vedere invece i costi variabili. I costi variabili sono invece i costi buoni, sono quelli legati alla alla produzione, cioè si manifestano solo quando noi produciamo. Quindi vanno dai vari materiali ai kit di sala, i vari strumenti eh legati alla produzione, poi i nostri collaboratori, i consulenti esterni, dall'ingienista all'onodonto tecnico e all'ortodonzista e così via. E quindi sono tutti eh costi che variano, perciò si chiamano variabili, in base alla produzione che noi facciamo. Naturalmente se sono alti vuol dire che la produzione è elevata e così via. Facendo una differenza, ecco come si fa il margine lordo? Facendo una differenza tra gli incassi, quindi i nostri ricavi e la somma dei costi fissi e i costi variabili. Così determiniamo il nostro margine che viene chiamato margine lordo, quello che naturalmente poi eh dovrà essere poi tassato e diventerà margine netto. Eh se vogliamo essere un po' più tecnici ehm oltre il margine lordo noi potremmo andare a vedere proprio quello noi che chiamiamo l'ebit, cioè il margine che viene calcolato senza i costi relativi alle tasse e agli interessi, quelli legati specificamente ai costi di produzione. E quindi in questo caso se vogliamo avere un calcolo più preciso riguardante i costi di produzione e quindi un margine lordo che includa quel tipo di costi eh definiremo nei nostri file anche quello che noi denominiamo ebit naturalmente che è un po' il guadagno lordo dello studio. Poi ci sono dei degli altri indicatori che noi andiamo a valutare all'interno dello studio stesso e che aiutano molto il dentista a fare le sue valutazioni. Il break main point sarebbe il punto di pareggio che è dato dalla somma dei costi fissi con i costi variabili. Quindi noi facendo questo eh file mensile sappiamo eh qual è il break main point dello studio. Cosa che spesso neanche i commercialisti riescono ad aggiornare questi dati eh mensilmente come facciamo noi e quindi il dentista ha proprio uno strumento dove lui va a valutare eh questi dati mese per mese. Il margine di contribuzione sarebbe qual è il nostro margine che vogliamo eh aggiungere a a la tariffa che andremo a costruire no? Per guadagnare insomma. Il costo orario dello studio è un po' più tecnico. È un costo che ci fa capire in base alla costruzione del nostro listino eh quali sono eh naturalmente in base ai tempi di produzione quelli che noi chiamiamo MIB cioè il tempo mano in bocca che è il tempo esclusivo dove il dentista guadagna eh viene calcolato in base appunto alla divisione dei costi fissi diviso il tempo mano in bocca di tutta la produzione dei consulenti nello studio. Però qua si va un po' sul tecnico e naturalmente non abbiamo ora il tempo e il modo per approfondire ma volevo dare solo alcuni spunti per quanto riguarda eh questi dati. Poi come sì come abbiamo visto nell'ambito del fatturato. Come si fa aumentare il fatturato? Dovremmo andare a analizzare come si fa aumentare eh il margine all'interno di uno studio. Prima cosa aumentando il fatturato con quelle cinque attività che abbiamo visto prima eh abbiamo elencato. Poi dobbiamo cercare di ritoccare dove è possibile un cinque per cento del listino. Spesso andando a fare anche un'analisi del mercato prendendo in considerazione il territorio dove opera lo studio. Se noi andiamo a fare un ritocco del cinque per cento eh il paziente di solito mh non lo percepisce neanche tranne su alcune prestazioni civetta che possono essere tipo l'igiene o la prima visita ma su altri tipi di prestazione avere un ritocco del cinque per cento non viene eh percepito negativamente dal paziente stesso. Andare a aumentare eh il margine attraverso il taglio di cosiddetti rami secchi. Cioè i rami secchi quali sono? Una volta che noi abbiamo capito le marginalità sulle varie prestazioni possiamo andare a rivedere eventuali accordi con consulenti esterni. Quindi rivedere gli accordi con l'igienista, con l'ortodonzista, con chi fa conservativa dove magari possiamo trovare un accordo e pagarli su quota fissa invece che su percentuale rispetto alla eh alla provvigione che abbiamo previsto per lui in base al listino. Naturalmente però se noi non abbiamo eh il calcolo preciso del dato della marginalità non potremmo fare nessun tipo di proposta eh al consulente stesso. Poi andando a ridurre quelle che sono le spese di gestione quindi stare attento a quello che noi chiamiamo i costi fissi e fare in modo che questi non aumentano e andare a focalizzarsi invece sul sui prodotti di alto marginalità. Cioè che vuol dire? Secondo la nostra visione il dentista, il titolare deve fare il le prime visite e focalizzarsi sulle prestazioni ad alto valore. Mentre tutto il resto dovrebbe essere eh delegato a dei consulenti, ai suoi collaboratori. Naturalmente parlando di prodotti alti margini dobbiamo anche andare a parlare dell'agenda produttiva e qua entriamo un po' anche nell'ambito della segreteria, no? Dovemmo fare proprio dei discorsi sull'area segreteria. Cioè dobbiamo fare in modo una volta che abbiamo capito la marginalità del nostro studio andare a costruire un'agenda produttiva che vuol dire allungare la durata degli appuntamenti soprattutto e ridurre il ciclo di terapia. Quindi costruire un'agenda con meno appuntamenti ma di maggior durata. Questo perché? Perché così si riducono dei costi variabili perché il paziente deve venire meno volte in studio e quindi aumenta la nostra marginalità. Però come capite tutto questo dipende dalla politica dei pagamenti che abbiamo attuati e quindi se i pazienti pagano in maniera veloce possiamo predisporre un'agenda di questo tipo e naturalmente dovremmo andare a approfondire poi l'aspetto della segreteria. Poi il terzo indicatore che abbiamo visto dopo quindi il fatturato e il margine e il controllo della spesa. Quindi per spesa noi dobbiamo andare a focalizzarci su due punti principali contenere lo spreco e spendere con intelligenza. Contenere lo spreco in che modo? Cioè non fare sconti se non quelli previsti per premiare per esempio coloro che pagano con pagamento anticipato perché da quello che vedo io purtroppo i dentisti sono proprio portati a fare tante volte tanti sconti e anche in maniera forse delle volte non adeguata però una volta che noi abbiamo fatto un'analisi finanziaria lui ha capito e ha compreso quanto margina su quel tipo di prestazione naturalmente si stabilisce anche qui una scontistica massima e il nostro naturalmente obiettivo è di cercare di premiare solo determinati tipi di pazienti che magari fanno un pagamento molto veloce anticipato. Cercare di ridurre poi i rifacimenti di terapia perché in questo caso quando noi facciamo dei rifacimenti di terapia i costi raddoppiano naturalmente poi andiamo in un discorso di etica perché è pur giusto che si facciano i rifacimenti quando il dentista giustamente dal punto di vista clinico lo ritiene opportuno però è necessario anche trovare un equilibrio perché vuol dire allora se facciamo troppi rifacimenti magari la nostra anche area clinica non è particolarmente strutturata e poi fare attenzione alla gestione del magazzino spesso io vedo che degli studi delle volte fanno degli acquisti in maniera non corretta non adeguata in riferimento alla gestione del magazzino e spesso comprano anche per abitudini dagli stessi fornitori. Quello che noi suggeriamo è anche di fare un'analisi di mercato e capire eventualmente se ci sono dei fornitori con dei costi più con dei prezzi più vantaggiosi. Poi diciamo spesso che il margine si fa anche quando si compra e non solo quando si vende quindi bisogna entrare nell'ottica e questo lo do come consiglio in generale che tutto ciò che spendiamo all'interno del nostro studio dobbiamo avere in cambio per questa spesa un aumento dell'utile che può essere un aumento dell'utile in termini economici o in termini di produttività. Faccio un esempio se io mi rivolgo a un'agenzia di marketing e faccio delle campagne io devo misurare quel tipo di spesa se mi procura un aumento di prima visita e quindi un aumento di produttività. Però se naturalmente non effetto un sistema di controllo di misurazione dei dati questo non mi è possibile ma lo stesso anche se io assumo un'altra segretaria e inserisco un'altra persona in più allo studio devo metterla in condizioni che quella persona mi aumenti in termini di produttività quindi l'utile e quindi in questo caso anche qui l'importante entrare in questa ottica di investimento anche quando si spende altrimenti lo riceviamo soltanto come posto. Quindi per essere ancora più veloce possibile vado in conclusione dicendo che spesso i dati del commercialista non sono dati che aggiungono e fotografano la situazione reale dello studio. Con questo sistema che noi implementiamo all'interno dello studio creiamo proprio una sorta di contabilità just in time come dicevo prima contabilità in tempo reale e questo naturalmente eh è possibile solo con l'aiuto di di persone che dell'area amministrativa naturalmente ci danno una mano quindi eh uno dei primi step è formare una persona in segreteria per far sì che eh ci aiuti a raccogliere dei dati. Quindi delle volte mi scontro un po' con delle visioni un po' limitanti di alcuni dentisti che mh spesso non vogliono condividere dei dati con le proprie amministrative o segretarie mh però eh ci dobbiamo rendere conto che questo lavoro comporta comunque del tempo quindi magari delegare questo tipo di attività eh ci fa risparmiare tempo in modo che noi possiamo focalizzarci su altre cose. E inoltre eh questi dati che emergono da questo sistema di controllo statistico a che cosa servono? Soprattutto a fare delle valutazioni per dove e come dobbiamo intervenire perché altrimenti che io raccolgo i dati e poi eh li guardo li analizzo solo e poi non applico un sistema di azioni correttive eh servono a ben poco. E tra le nostre attività è anche questo appunto di aiutare i titolari degli studi a mh valutare quali sono le azioni correttive da fare e soprattutto da condividere con il team attraverso riunioni che possono essere riunioni generali oppure riunioni di area a seconda dell'area clinica in segreteria per far sì che poi eh possono eh essere ancora più coinvolti e motivati il team stesso e nello stesso tempo il titolare può avere il vantaggio di apportare quelle azioni correttive e e fare delle valutazioni in merito alla alla propria situazione economico finanziaria. Quindi ho ho cercato di essere meno tecnico possibile e e di essere anche più veloce possibile ma venendo conto che poi questi aspetti andrebbero approfonditi con un tempo maggiore naturalmente ovviamente. Non ti preoccupare penso che chiaramente allora se ci sono domande lasciamo pure spazio un po' di domande sia per Massimiliano sia per Micaela se nel frattempo a qualcuno è venuto in mente qualcosa e qualche curiosità o magari vuole presentare il caso del del proprio studio e cogliamo l'occasione che abbiamo qua sia Massimiliano che Micaela e possiamo chiederglielo in diretta. Se non ci fossero domande io direi che possiamo salutare ringraziare tantissimo Micaela ti ringrazio molto per aver partecipato per i tuoi preziosi consigli se qualcuno avesse delle domande magari nei prossimi giorni bravo Massimiliano sei il nostro punto di riferimento a Michele Berenice. Grazie a tutti grazie grazie a voi e se qualcuno avesse ovviamente delle domande può contattarci vi metteremo in contatto con Micaela quindi nessun tipo di problema contattateci a info piottrosmdental.it o se avete il consulente dental di riferimento contattate il consulente che poi appunto vi vi prenderà un un appuntamento insieme anche a Micaela va bene? Certo io se vuoi e Anna posso anche lasciare le slide in modo che se diciamo farci una lettura e posso anche diciamo vedo se me le fa condividere qua scriventi tranquillamente le le giro. Sì guarda se vuoi girarle a me allora domani io le mando ai partecipanti così ce l'hanno. Ok grazie mille perfetto perfetto grazie. Ok grazie anche a te Massimiliano. Ok sì. Ci riaggiorniamo al prossimo webinar saremo insieme anche il prossimo mese e parleremo di marketing quindi abbiamo un altro argomento sempre che riguarda la gestione dello studio dentistico che abbiamo visto oggi quindi la funzione dell'attrarre che è molto importante e vi ricordo appunto l'appuntamento di giovedì a Padova può approfittare venire a conoscerci può approfittare degli omaggi anche che abbiamo riservato per per tutti i partecipanti e ci sarà anche un'offerta molto molto importante alla fine quindi se volesse partecipare è ben accetto. Ok perfetto ringrazio ancora tutti buona serata vediamo se ci sono delle domande last minute che vedo ok grazie mille a tutti allora buonanotte ciao 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 ciao